prosegue a tambur battente la discesa dei rendimenti decennale americano oggi meno 1 10 siamo a 4 e 12 il target del 4 per cento che avevamo qui individuato alla rottura del testa e spalle ribassista è quasi raggiunto manca poco si tratta comunque anche della media 200 quindi un supporto importante vediamo per il momento siamo ancora non siamo in fase di eccesso vedete come la direzionalità ancora 33 qui c'è ancora spazio quindi stiamo a vedere se sulla con la continua pubblicazione di dati macro negativi questo calo dei rendimenti proseguirà tra l'altro ci avviciniamo all'importante scadenza dei non farm payroll di venerdì e quindi secondo me da qui a venerdì ancora vedremo qualche movimento il decennale tedesco continua a scendere a coltello a lama di coltello che cade l'avevamo detto ieri anche rendimenti euro crollo in corso ma dei rendimenti segnali tecnici ribassisti li abbiamo avuti diverse volte l'accelerazione al ribasso l'avevamo segnalata già sei giorni fa dal punto di vista tecnico i segnali c'erano la famosa rottura del canale di regressione e non ripeto cose già dette rinvio ai video precedenti per chi non li avesse visti insomma si parlava di questa situazione tecnica che ci aveva fatto capire che un'accelerazione era possibile ci stiamo avvicinando alla fascia d'eccesso quando la direzionalità sarà arrivata verso 40 non ci siamo ancora siamo vicini al target di 2 1 quindi per il momento si continua ad andare giù questo calo dei rendimenti continua a sostenere chi più chi meno gli indici azionari sorprendentemente gli indici più in forma sono quelli europei dax più 0 75 è andato a ritoccare il nuovo massimo storico già toccato ieri quindi ne ha stabilito un altro nuovo le considerazioni sul dax sono quelle fatte ieri rinvio al video di ieri qui siamo in zona di eccesso molta molta attenzione perché siamo in fase paraborica e si è ed è ormai matura anche la terza leg di questo movimento che si è sviluppato dalla fine di ottobre primissimi di novembre che avevamo visto in parte partire sul lo stocks 600 lo stock 600 che qui sul bottom ci aveva dato no qua ci aveva dato segnali di bottoming se andate a vedere i video appunto di fine ottobre ci aspettavamo un rimbalzo il rimbalzo verso la vstop vstop ha fatto la resistenza qualche giorno poi è partita la seconda leg pausa e questa è la terza gamba di questo movimento impressionante perché appunto è avvenuto come vedete con un minimo a v questi minimi a v nonostante il fatto qui ci fosse una configurazione di doppio minimo ma molto stretta non ha avuto il tempo di formare una base degna di questo nome a base proprio minima formata nel giro di pochi giorni quindi possiamo omologarlo a un minimo a v sono rari i minimi a v ci sono sono rari ne abbiamo avuto un altro a marzo però questo era sulla scorta no delle decisioni prese da banche centrali di aiutare le banche con la liquidità il sistema dei prestiti dei titoli che quotavano sotto la parità insomma tutti quei programmi di supporto quindi ci poteva stare il minimo a v questo è stato abbastanza inatteso almeno per le proporzioni che ha visto appunto il contesto generale il contesto generale qual è mi riferisco alla debolezza del quadro macro oggi petrolio meno 3 e meno 3 30 segna in questo momento il petrolio anche questo dal punto di vista tecnico ci aveva dato dei segnali buoni affidabili perché c'è un video di due settimane fa dove dicevamo rompe area 75 target 65 questo era un video del 16 novembre area 75 era questa quindi quando abbiamo fatto questo primo break che poi si è rimangiato il giorno dopo no si è rimangiato qui ce vanno sono cominciate le voci taglio opec plus eccetera però poi alla fine questo break si è confermato valido perché è stato di nuovo ripercorso il taglio di 75 5 giorni fa e quindi il segnale tecnico è stato convalidato questo per essere annullato dove al saremmo dovuti andare sopra la media 200 quindi andato in pausa e ora è in fase di completamento il target rimane 65 lo confermo perché comunque è una fascia di supporto importante che sia nel mese di marzo e poi successivamente il mese di maggio ha fermato le discese vedremo se ce la farà anche questa volta la domanda a farsi sentire su quei livelli o prima perché comunque per il momento continua a scendere però non è detto che ci si fermi che non ci si fermi prima per adesso diciamo che l'impulso ribassista si sta ancora sviluppando guardate come si stanno aprendo i due dmi quando i due dmi si aprono uno verso l'altro verso il basso significa che l'impulso è in corso quindi gas americano meno 5,5 quindi il settore energia batte in testa e quindi evidentemente un problema di domanda ci sarà un problema di clima per il gas però per il petrolio non è tanto il clima e la domanda nonostante i tagli di produzione latita e quindi ecco quindi nonostante questa situazione abbiamo detto e torniamo all'equity quindi abbiamo dato giusto un flash qua stiamo ritornando all'interno della figura di cap e nendol no quindi negando il break a rialzo anche qua non ripeto cose già dette ne abbiamo parlato nei video precedenti torniamo all'equity quindi torniamo al dax perché scusate salto ma è opportuno fare questi riferimenti perché noi lavoriamo molto con le conferme che ci vengono dall'intermarket per cercare appunto di filtrare quelli che sono i falsi segnali proprio ieri parlavamo del dax che quando arriva su questi livelli negli ultimi mesi ha fatto degli scherzi ai long nel senso che questi breakout dei massimi negli ultimi mesi non hanno funzionato per parecchie volte quindi vediamo se anche questa volta sarà così però comunque finché sale qua siamo nella fase di salita verticale attenzione al livello di no le cose che avevamo già detto ieri siamo in iper comprato qua io mi attendo un reversal di qualche tipo da un momento all'altro fermo restando che quando i movimenti diventano parabolici questo momento all'altro può significare anche qualche punto percentuale perché quando parte il razzo in verticale lo abbiamo visto tante volte può percorrere anche tanta strada in pochi giorni gli indici americani quindi dicevo gli indici europei sono quelli più dinamici sul dax a proposito delle tre gambe eccole qua pari pari quindi un movimento in tre movimenti questi tre impulsi diciamo nella maggior parte dei casi poi richiedono una correzione no quindi se anche questo dal punto di vista grafico l'ulteriore conferma che questa area di 16 6 è un'area in cui bisogna porre molta attenzione gli indici americani vi dicevo eccolo qua lo spy prendiamo il mammut con tutti i sette i magnifici sette presenti in forma pesata che quindi incidono per il 30 per cento su questo indice candela nera questo non riesce per il momento a superare 4550 questo è l'etf spy vi ricordo che spostando il decimale si ottiene l'indice s&p 500 4550 oggi una candela nera se aveva tentato la fuga verso l'alto non ce l'ha fatta e si sta indebolendo il dmi positivo non abbiamo ancora rotture di livelli importanti ecco diciamo se dovessimo andare sotto 4500 cominciamo a intrappolare un bel po di long quasi sta formando quello che potrebbe essere un possibile top però non mettiamo il carro davanti ai buoi uno step alla volta l'altro è il nasdaq anche per il nasdaq candelone nero in questo momento segna meno 0 2 mancano più di due ore alla chiusura l'altro giorno avevamo visto che si stava accennando a formare quello che è un massimo arrotondato ma sono segnali deboli questi perché abbiamo ancora i bull in controllo poche divergenze abbiamo avuto sui massimi precedenti qua abbiamo questo gap importante la chiusura di questo gap potrebbe segnare un po il cambiamento di questa situazione tecnica per il momento questa rimane una fase di consolidamento laterale nonostante la forma sospetta e il fatto che comunque stiamo rientrando da valori elevati però ci stiamo rientrando quindi attenzione ai supporti questo è l'etf delle 3q 380 giusto per dare dei numeri 380 è un valore da tenere d'occhio continua piano piano a salire il dollaro occhio al dollaro ogni volta che il dollaro fa queste manifestazioni e segno che c'è qualcosa che non va ogni volta potrebbe essere segno di tensioni internazionali il dollaro che un po fa da calamita no di tutte queste situazioni di stress sia di tipo finanziario che di tipo macroeconomico attenzione anche a quello che sta succedendo in cina adesso non entro nelle cronache perché esulano da quelle che sono questo che è un video di analisi tecnica però ecco il dollaro finora ci ha sempre dato un buon campanello d'allarme supporto a 103 a tenuto siamo ripartiti target di questo movimento e 105 siamo a 104 quindi non manca molto soprattutto se continuerà la discesa dei rendimenti nel modo in cui si sta sviluppando cioè i rendimenti europei che scendono molto più velocemente di quelli americani quindi danno un differenziale di tassi ecco anche questo sta aiutando il dollaro differenziale dei tassi tra europa stati uniti a favore degli stati uniti e siccome il dollar index che stiamo guardando per oltre il 50 per cento è influenzato dal cambio con l'euro ecco che quindi un differenziale dei tassi a favore degli stati uniti con l'euro tra euro e dollaro fa salire anche il dollar index ma non c'è solo questa componente vi dicevo quindi importante continuare a monitorare questa situazione ecco questo è un po il quadro di oggi quindi una giornata che sembra che apparentemente non porta novità però secondo me ci sono delle situazioni in divenire che stanno maturando continuate a seguire il finale di settimana secondo me porterà volatilità veniamo velocemente alle richieste una riguarda l'avevamo già vista però ci sono degli amici che stanno seguendo buyer che è una delle blue chip come si diceva una volta del dax 40 e guardate un po che fine ha fatto a proposito di dax ai massimi storici e buyer ma non è solo buyer all'interno del dax 40 ce ne sono diversi titoli in situazione precaria poi come faccio il dax a stare ai massimi questo è un altro discorso da 60 siamo venuti a 30 quindi stiamo facendo un meno 50 per cento non dal 2021 non dal 2022 ma da maggio no da questo sì aprile aprile quindi da aprile da aprile a oggi sono circa otto mesi poco meno di otto mesi meno 50 per cento per un titolo come buyer non è banale l'amico qui segnala che si sta forse formando una base ma è il discorso di prima è troppo piccola questa base in proporzione cioè questi movimenti hanno anche in analisi tecnica c'è una proporzionalità anche fra i movimenti l'armonia è data anche da questo è una base sì c'è ma è piccola in confronto a tutto il resto qua abbiamo un macigno che questo gap ribassista col candelone nero del giorno ora andiamo a vedere 20 novembre con picco di volumi superare questa roba qua non sarà banale quindi sì stiamo formando la piccola base la basetta ci andiamo a fare il pullback vedremo la v stop che sta venendo giù veloce può darsi che la superiamo però questa sarà un'area di resistenza molto importante prima di risolvere questa situazione secondo me ci vorrà tempo fatto salvo che poi tutto può succedere no non so cosa potrebbero annunciare dal punto di vista macro su baia per far cambiare la situazione dalla sera alla mattina però un punto di vista tecnico questa roba richiede tempo non si risolve facilmente altra richiesta riguarda un etf rise sustainable food cibo sostenibile questo etf dal punto di vista tecnico simpatico perché si muove molto ma è molto regolare impostato in un trend ribassista di cui non si vedono per il momento importanti segnali di inversione perché gli impulsi ribassisti fanno segnare nuovi massimi o comunque confermano i massimi precedenti non vediamo divergenze particolari neanche sulla dx il comportamento tecnico invece regolare che ha e che dopo aver sviluppato il suo movimento ribassista tende sempre nei pullback a fare min reversion cioè ritorno verso la media a 200 che poi fa da resistenza no poi parte un altro impulso più o meno accentuato verso il basso e poi va a rivisitare la media 200 e può darsi che questo sia un movimento simile quindi io mi metterei come target un'area 3 e 7 però diciamo che poi lì dobbiamo vedere che succede perché le altre volte la media 200 o prima o dopo no con dei movimenti di qualche giorno un po più prolungati come in questo caso con la rottura alla rovescia di un rettangolo che avrebbe dovuto essere di prosecuzione rottura con gap quindi questo è stato un segnale importante di continuare di continuazione del movimento ribassista e quindi la media 200 in modo nell'altro ha fatto comunque da resistenza le ultime volte quindi ammesso che la si vada a vedere anche in questo caso dobbiamo poi una volta valutare una volta lì valutare da un punto di vista tecnico che cosa succederà va bene io direi per oggi è tutto lasciate come sempre nei commenti la segnalazione di situazioni interessanti così poi li vedremo assieme nei prossimi video grazie a tutti per l'attenzione intanto buona serata e appuntamento a domani